Ciao a tutti! Nel video di oggi andremo a realizzare questo simpaticissimo coniglietto. Ecco cosa ci serve. Un paio di forbici Una colla stick Una pinzatrice Alcuni pennarelli Una matita Un piccolo elastico E qualche foglio. Una volta recuperato tutto il materiale, prendiamo un foglio bianco e lo tagliamo lungo il lato lungo. Perfetto! Ora pieghiamo più volte la striscia su se stessa, lungo questa volta il lato quadrato. Perfetto! Riapriamo il foglio E pieghiamo in modo alternato la stessa striscia, seguendo le pieghe falte. Ripetiamo l'operazione analoga anche per la seconda striscia. Dopodiché andiamo ad unire le due striscioline. O con della colla stick, oppure pinzandole. Fatto ciò, richiudiamo la striscia e inseriamo un elastico portandolo al centro. Pieghiamo il tutto E ora dovremmo incollare oppure pinzare in questo punto E nel punto opposto Abbiamo così ottenuto il corpo del coniglietto Procuriamoci ora un altro pezzo di carta E disegniamo gli altri elementi Tra cui Gli occhi Il muso Le zampe E le orecchie Coloriamole E poi ritagliamole E poi ritagliamole Bene Ritagliati gli elementi del coniglietto Possiamo ora incollarli sul corpo Per cui Uniti di colla stick Incolliamo le zampine Il muso E gli occhietti E per finire Le orecchie Ed ecco qui Il nostro fantastico coniglietto Il nostro famoso E per finire Il nostro canale Il nostro canale E per finire Il nostro canale Il nostro canale